Ciao cari, allora nuovo vlog vi porto qualche giorno con me come al solito Allora in pratica stavo editando tipo un video per un mio amico e boh mi ero messo un po' di Italia con Premiere che ho scaricato da poco, mi è piaciuto un sacco quindi ho deciso che Ora registrerò un vlog dei prossimi giorni per provare un po' Premiere perché non lo so Mi sono divertito tantissimo, oggi ho fatto la doccia, adesso vado a fare la mia skin care E poi penso andrò a dormire, domani invece devo andare al diciottesimo di una mia amica Quindi allora intanto non andrò a scuola domani sabato perché voglio riandare a vedere la mia professoressa In inglese dell'anno scorso dello scientifico quindi domani non vado a scuola L'ultima ora vado allo scientifico, vedo la professoressa e poi dopo essere stato l'ultima ora a scuola Vado appunto al compleanno perché è una mia ex compagna di classe quindi tornava comodo così Non penso registrerò tipo mentre c'è questo compleanno che sono diciottesimo perché se non qualche piccola clip Perché tipo sono con i miei ex compagni dello scientifico Non lo so in realtà non è che sia un gran problema però non penso registrerò, me lo immagino già Però volevo dirvi che sarò qui il mio ex compagnolo scientifico Adesso vado a fare la mia skin care e poi vi porterò come in questi giorni Allora Questo è il giorno 2, volevo registrare tutta una parte estetica in con il vestivo ma me lo sono dimenticato Però ho fatto un get rid of me tipo di 10 minuti su tiktok sulla pagina skin care quindi nel caso andate a vederlo Nulla, questo è l'outfit tipo questo che non so se è molto carino o sembra tipo un pigiama Sembra un bingo scemo che non si è tolto il pigiama Però questi pantaloni che erano quelli che volevo mettere giacamente le baffole Io volevo mettere poi la maglietta quella mia tipo cortina verde però Come tutti gli altri vestiti quindi Questo è il fit Comunque nulla Io cerco di fare tutto estetica carino e soft Però poi urlò Allora nella mia bag oggi c'è E' questa qui di Lush Il regalo Che vi metterò una clip in cui l'ho in pacchetto Sempre se non l'ho già messa Una pinza Un siero di sephora che devo dare al mio amico Il power bank magsafe Il portafoglio Il profumo non lo trovo Questo è tutto il contenuto della mia bag Allora Aggiornamento Bevo un goccio d'acqua prima Tra tipo un'oretta 40 minuti Ho l'autobus per andare a scuola Così vado a scuola Faccio tipo gli ultimi 20 minuti dell'ultima ora Così vado a salutare la prof di inglese dell'anno scorso Poi usciamo E vado al compleanno E Nulla Volevo solo aggiornare un attimo sulla situazione Questa è la mia La mia bellissima borraccia nuova Troppo carina A parte quale l'etichetta che non si toglie Carina E la luce nuova Viene che bella Taccata sulla borraccia Però è comodissima questa luce Ti giuro Bellissimo E allora Che ho fatto stamani Vi ho un po' già ripreso le cose Comunque ho risposto un po' alle mail Ho editato qualche video Avevo altre cose da editare Ho fatto Un po' di cosine Però me la sono presa molto con calma Ho anche giocato un pochino a Minecraft Adesso mi metterò probabilmente a giocare a un giochino sul telefono Che ho scaricato un poco Che è tipo di quelli che da Netflix Tipo Netflix Games Quel che è Che è tipo un Tipo di quelli lì Tipo Vabbè ve lo faccio vedere dopo Che il giochino è comunque Sembra molto carino Allora alla fine in realtà C'è stato un cambio di programma Perché tipo Devo prendere l'autobus tra 20 minuti Però vabbè Iniziamo a giocare E vediamo un po' come è sto giochino E poi vabbè Andrò a prendere questo autobus Allora non ho capito molto Perché non leggo mai Ma a quanto ho capito Tipo Devi purificare l'ambiente Che è tutto un po' smerdatino Però Non lo so Penso Funzioni così Io proverò un po' questo giochino A caso Vedrò come va Sì ha fatto tipo La terra buona E penso con questo Metti l'erba Boh proviamo Sì Che figo Forse ho capito Forse ho capito Sembra un giochino carino Vediamo E poi ho visto c'erano anche altre modalità Vabbè Giocherò un pochino In particolare ho scoperto Che in realtà È lo stesso giochino A cui sta giocando Ultimamente un mio amico Quindi sto provando A fare un po' di domande Però mi sembra Leggermente diverso Dal telefono Non ho capito Cosa ho appena fatto Cioè tipo Ho fatto un buco in terra Perché E cercherò un po' di capire Come funziona Questo giochino E poi ci sono anche altre modalità Però vabbè Boh è tutto da scoprire In realtà Dovrei leggere Troppo fatico a leggere Un po' di capire Un po' di capire Un po' di capire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti